Alcune cose si sanno, nel senso che per esempio il cerchiaggio nelle gravidanze gemellari, lungo dall'essere benefico, è dannoso. Però tutti i criteri che noi utilizziamo per le gravidanze singole non sono utilizzabili per le gravidanze gemellari. Questo è un grosso punto interrogativo se noi teniamo conto del fatto che la gemellarità rappresenta uno dei fattori di rischio, anche se non il più importante per la prematurità. Per il tractocile il problema qui è un po' complesso, nel senso che l'utilizzazione, sul foglietto c'è scritto fino a 34 settimane, nel senso di 33 più 6. Noi sostanzialmente quando siamo all'accompimento della 34esima settimana smettiamo di utilizzare qualsiasi tipo di provvedimento che abbia un qualsiasi significato tocolitico. Prego. Volevo fare una domanda a lei, professore. Lei ha fatto vedere le curve degli eventi per i Natali negativi che stanno, diciamo, cominciano a rialzarsi, era una curva fatta un po' a B. Per cui le morti per i Natali tendono a essere localizzate dopo la 39esima, se non sbaglio. E però c'era un picco anche precedente. Però se lei ha esordito dicendo che il picco, comunque sappiamo che c'è un picco sulla 39esima, il senso di far venire la donna a 40. chiedo, come dire, sarebbe da anticipare l'aspetto preliminare che lei ha dato, no? Cioè quindi se questi, diciamo, si osserva che a 39 comincia a esserci il rischio, perché, diciamo, si comincia a far venire la donna a 40 più 0? Ecco, scusi, poi l'altra questione è... Sì, no, 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 è una domanda giusta. Non c'è un picco, eh? Non c'è un picco. C'è la, incomincia la tendenza all'incremento. Non c'è un picco. Il problema è che noi non abbiamo nessuno strumento per poter intercettare questo fenomeno. Questo è il punto. Il punto è questo, che noi la possiamo anche far venire prima. Però non abbiamo nessun elemento che qualsiasi cosa noi potessimo fare in ordine al controllo del benessere fetale per quella donna non ci dà nessun esito favorevole rispetto alle complicazioni per i Natali. Non abbiamo nessun dato. Ok? Non abbiamo nessun dato. Quell'altra domanda invece era se sempre quel lavoro che ha fatto vedere lei hanno proseguito sui neonati. Mi spiego, perché lì l'evento neonatale è legato alla... Hanno controllato anche i neonati, sì. Ah, cioè quindi anche, insomma, se volete, per esempio andava verso anche... Eh certo, hanno controllato anche i neonati. Quando si parla di mortalità per i Natali, chiaramente si intende il controllo del feto, del neonato, del neonato fino a sette giorni. Volevo sapere, voi che utilizzo avete o fate, se lo fate, ancora della ritodrina e della nifedipina? E poi l'altra domanda era nel consenso informato all'induzione, alla luce dei dati che avete riportato, quindi non andrebbe assolutamente messo che cosa mettete voi come rischio? Non certo allora l'aumento dell'incidenza del taglio cesareo, questo, nel consenso informato all'induzione, alla luce di quello che avete esposto. Quindi nei pro e contro che lei ha citato, che cosa mettete nei contro, nell'induzione? E poi quello della ritodrina e nifedipina. Sulla nifedipina non la utilizziamo perché è fuori prescrizione, se qualche medico decide di utilizzarla deve far firmare un consenso alla paziente perché è fuori prescrizione. Per quanto riguarda il miolene, cerchiamo di utilizzarlo il meno possibile, utilizziamo di più sicuramente il tractocile. Chiaramente è a discrezione del medico che è in turno in quel momento. No, no, assolutamente no. Allora, a domicilio assolutamente no, perché non è mai, tutti i dati sono concordi nel dire che la prescrizione orale di qualsiasi toccolitico è assolutamente priva di qualsiasi significato. Allora, il problema invece della ritrodina, cioè il problema della nifedipina, è posto in questi termini, è molto semplice. Allora, la ritrodina e la tosiban hanno gli stessi effetti in termini di efficacia della nifedipina, cioè la tosiban e la nifedipina hanno gli stessi effetti della ritrodina e dell'indometacina. Sono questi i quattro farmaci, non toccolitici. Allora, la tosiban e la nifedipina hanno gli stessi effetti della ritrodina e effetti in termini di efficacia nella procrastinare il momento del parto. Il problema della ritrodina e dell'indometacina rispetto alla nifedipina e alla tosiban è che hanno degli effetti collaterali o sul feto o sulla madre di gran lunga superiore. Quindi se noi dovessimo fare una scelta sulla base della valutazione dell'efficacia e degli effetti collaterali dovremmo sicuramente scegliere o la tosiban o la nifedipina. Giusto? Se invece noi vogliamo scegliere sulla base, che non è campatenaria, sulla base non del criterio chi è più efficace o chi ha più effetti collaterali, ma la vogliamo scegliere sulla base dell'EBOL, della licenza. In Italia gli unici due famaci licenziati come tocolitici sono la ritrodina e la tosiban. Allora, se noi scegliamo sulla base della licenza, il nostro dilemma è questo, ritrodina o atosiban? Vantaggi della ritrodina, il prezzo. Enormemente inferiore. Vantaggi della tosiban, effetti collaterali sulla madre, zero. Esiste uno studio condotto in Germania, un paio di anni fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, in cui hanno dimostrato che il vantaggio economico della ritrodina è solo apparente. Hanno fatto uno studio molto molto ben fatto, in cui hanno considerato il costo dell'utilizzazione di un farmaco rispetto all'altro, considerando non solo il costo del farmaco, ma anche il costo delle complicazioni comportate da quel farmaco. E è stato visto che, alla lunga, considerando tutto, la tosiban è a più buon mercato rispetto alla ritrodina. Cioè, comporta una spesa per l'ospedale, per le assicurazioni, inferiore rispetto alla ritrodina. Quindi, sulla base della licenza, noi dovremmo scegliere la tosiban. Sulla base, invece, degli effetti, il dilemma è atosiban o nifedipina? Uno dice a me, non me ne importa nulla che la nifedipina non sia la nifedipina.